Il dottor Calogero Casà è il coordinatore del Dipartimento per gli specializzanti. Dottore, quali sono le attività del suo Dipartimento e in che modo queste possono essere incorniciate nella giornata di festeggiamento del decennale di CGM? Tra le plurime attività che il Dipartimento porta avanti io parlerei di due grandi pilastri che sono il contributo culturale che il Dipartimento sta, deve e dovrà offrire al panorama della sanità pubblica italiana e della formazione in sanità italiana. L'altro pilastro è puramente associativo e di relazioni con coloro che fanno parte del sistema di formazione in particolare coloro che ne fruiscono, quindi i specializzanti, i medici in formazione specialistica. Il contributo culturale è sicuramente quello di approfondire e di ricercare quali sono i valori del nostro sistema di formazione e consentire di evolvere verso un sistema che rispecchi i tre capisaldi che noi ci siamo un po' dati che è quello della programmazione, quello della qualità e quindi quello della formazione. Perché senza programmazione quantitativa, ma senza una programmazione qualitativa, la formazione rischia di diventare un'illusione. Il contributo culturale è importante soprattutto in un tempo in cui ci viene detto che forse non riusciamo a permetterci la qualità, forse non riusciamo a permetterci la programmazione, ma io credo che la priorità sia assoluta in questo senso perché è un problema di salute pubblica formare adeguatamente i medici, sia in termini qualitativi che quantitativi. Perché non possiamo permetterci la programmazione? Ad oggi quello che si sta portando avanti sotto diverse forme e in altri contesti è un sistema in cui si vuol dire di abolire il numero chiuso all'origine o di non controllare adeguatamente la qualità della formazione. Non si vuole rispondere al problema della carenza di medici o meglio di medici specialisti, di medici formati per entrare nel sistema sanitario nazionale e si vuole mettere la polvere sotto il tappeto talvolta rispondendo che non occorre una formazione particolarmente alta, non occorre un luogo dedicato alla formazione, non occorre rispettare una serie di requisiti per poter diventare luogo di formazione. Questo è un rischio che il sistema oggi sta attraversando. Ovviamente il contributo culturale in questo senso è solo un primo aspetto perché ovviamente il sistema di formazione è un sistema che è attualmente in atto, non è un sistema futuro e chi ora si trova a fare la specializzazione si trova a dover lottare con problemi di formazione reali in cui noi interveniamo non già come tutori quanto in maniera sinergica con i colleghi che trovano difficoltà all'interno dell'ambiente di formazione, onde stimolare una migliore qualità del percorso stesso. Grazie mille dottore.